Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica puntata di Harry Potter e Walt Smith Se li nuovamente è sempre senza musica a quanto pare non capisco per quale motivo Io boh ora esploro un pochettino a caso le stanze sperando che la musica torni Perché è veramente molto molto triste altrimenti Ragazzi nella puntata precedente ci siamo lasciati che stavamo parlando con Hagrid e con Percy Abbiamo scoperto un sacco di cose su crosta eccetera E quindi ora siamo pronti a incontrare Ben che ci deve parlare Ci deve dire una cosa importante a quanto pare non ho ancora capito ben quale sia musica E' tornata la musica ragazzi Qui dobbiamo andare ancora il nome all'Abraxan Vi prometto che lo farò, vi prometto che lo farò Non l'ho ancora fatto, non ho ancora avuto il tempo di scegliere dal post Instagram Che comunque avete scelto o nei commenti, nei video eccetera Avete scelto un sacco di nomi Vi ringrazio tantissimo ma non ho ancora trovato il tempo di tagliare un nome Cioè di scegliere il nome che mi piace Ma vi prometto che presto presto lo faremo Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo Tutto questo in realtà era soltanto per far partire la musichetta Ora possiamo incontrare Ben E scoprire che cos'è Che ci vuole dire di tanto importante Litz cosa vuoi? Credo di aver trovato delle orme di Yeti Nella foresta proibita Oh che bello, che culo Staci lontana Sento già la mancazza di Zan Di Thor Si chiama Thor, quel cane di merda Thor, non Zan, è Thor Ok, d'accordo, chissene Cioè veramente, sei proprio fissato Non trovo l'incantesimo che mi serve Per cui dovrò inventarlo io Non mi ricordo neanche che nome, che voce avevo dato a Badia Ragazzi come al solito Silente non c'è E' ancora rapito da La rakepick come al solito Ma adesso ragazzi dobbiamo parlare con Ben Grazie di essere venuto Rocky Qualcuno ti ha seguito per caso? E' bello sapere che c'è ancora qualcuno che si fida di me Io non so se fidarmi di te Non so se sei tu R Non so se è Rowan R Non so se è la rakepick R Ma non mi fido di te E non so neanche cosa ne pensate voi Però insomma, è tutto complicato Si tratta di Crosta, vero? Ho capito che volevi dirmi qualcosa Non crederai a quello che sto per dirti E se ci crederai Penserai che io sia pazzo? Parla con me Ben Sai che anche dopo tutto quello che è successo A me puoi dire tutto Secondo me dovremmo fare amicizia con Ben Sa vedere E lo sapevo Lo sapevo Maledetto me E quindi eccoci qua Voglio dirti quello che ho visto Ma ho paura che penserai che sono matto Secondo me vuole dirci che Insomma Ha visto lui che si trasformava in Peter Minus Probabilmente Sono quasi sicuro che sia così Mamma mia Quanta roba ci vuole Ho visto delle cose strane A Hogwarts Nulla è strano Cazzo Forse Non andava bene ragazzi Direi che sono sicuro che nulla è strano Vabbè ma Vabbè ma noi siamo bravissimi Abbiamo tutte quelle cose lì Non mi crederei mai E ma questo lo so L'ho già fatto prima Io voglio crederti Ben Sì vabbè anche voi Pro sviluppatori Almeno per la storia principale Fate delle domande diverse Non mi fate ripetere le solite domande Che tristezza Crosta mi ha seguito Oh mio dio Probabilmente non solo te Boom Perché noi sappiamo che Crosta è un figlio di un topo È un figlio di un topo E quindi Cioè Figlio di un topo Che cavolo Ho paura Che non mi crederà nessuno Io voglio crederti Ben Dimmi quello che sai Sto perdendo la memoria Ricordi di aver Figlio di Sono un po' stupidino ragazzi Però tanto ci abbiamo fatta E grazie a tutti i nostri Sei punti di ingegno Tac Fatto Boom Bang Balabush Grazie per avermi ascoltato Loki Spero che tu mi creda Certo che ti credo Siamo già a livello massimo con Ben Quindi frega 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 Andiamo avanti Quindi Sei convinto che Crosta Ti abbia seguito Penso Che Che possa essere responsabile Anche della mia Perdita di memoria Cavolini di Bruxelles Potrebbe essere così Allora Ora c'è Persi E Crosta è di Persi Prima Crosta di chi era Non lo so Però potrebbe anche essere Che quel Mago maledetto Sia quindi Peter Minus Quel mago che abbiamo affrontato Eccetera Questa sarebbe una Grande rivelazione Avrebbe molto più senso Che sia Peter Minus Rispetto che sia lui Rispetto che sia qualcun altro O altro Però Tu credi Che io Sia Pazzito Vero Perché devo dire Sei confuso Allora Boh Vabbè Io do retta al gioco Nei passate tante Ben Però fatemi sapere Se voi avete scelto Sei confuso O quell'altra Voglio sapere Che cosa succede Nei passate tante Ben Credo Che tu Abbia Delle Allucinazioni Potresti avere ragione Ma forse Quello che io Incontrare La Rakepik Che io Non voglio assolutamente Sapere in realtà Che cosa Abbiamo un sacco di soldini Un sacco di Mangimi Io non voglio esattamente Sapere che cosa Ci vuol dire Perché Boh La Rakepik Quella ladra Quella maledetta Quella Rapitrice di persone Ci vuole veramente Boh Secondo me Ci vuole morti Io ne sono convinto Non sono sicuro Se a questo punto Se R è la Rakepik È Ben È Rowan Oppure È Crosta Cioè Peter Minus Secondo voi Alla luce di fatti Quindi chi è Questo cavolo di R Io non lo so E se siete più avanti di me E avete qualche notizia in più Per favore Per favore Niente Niente Spoiler I spoiler Sono il male Ricordatevelo Io finisco qua Ora di dar da mangiare Al mio asticello Che Devo ancora Trovare il tempo Di dargli un nome Eccetera Lo so Sono una pessima persona Purtroppo sono parecchio Indaffarato In questi giorni Eccetera Quindi è un po' Un casino Questo non posso farlo Questo non posso farlo Mi manca da dar da mangiare A nessun altro A nessun altro ragazzi Perché non posso Da mangiare A porchetta Perché non posso Da mangiare A porchetta Perché È buggata A porchetta Perché A parte Porchetta È tipo Lo schifo Tipo Bah Però Porchetta Sei buggata Perché non ti posso Da mangiare Porchettina dolce Ah ecco Andiamogli da mangiare Che non basta ancora Non sale di livello Né altro Però insomma Io gli do la pappa Lui è felice Lui mangia E top Comunque ragazzi Direi che per oggi Ci possiamo fermare qua Io nel mente Crea un legame Anche con la mia Craturina Porchetta Veramente brutta Come non si sa cosa Ci vediamo Nella prossima punta Del ripoto Cosmistic Dove andremo A conoscere Le intenzioni Della rake pick O perlomeno Mi auguro Qui siamo a livello 3 di magizologia Tipo Livello infimo Dobbiamo arrivare Fino in fondo Ci vorremmo Tipo una marea Qui siamo sempre Al primo posto Con tipo 1680 punti Contro 1500 Quindi siamo Di 180 punti Circa Ma sono tutti tipo pari 1500 1500 158 Figata Pazzesca Siamo anche quasi A livello 25 Di empatia Quindi ci stiamo Avvicinando E anche quasi A livello 37 Ma Veramente Un sacco di roba Qui siamo sempre Indietro Con tutto E sono un pochettino triste Per fortuna Almeno c'è la musica In questo video Quindi un minimo Di bellezza c'è Direi che per oggi è tutto Ci vediamo Nella prossima puntata Di Harry Potter O Ghost Mystery E vi ricordo Anche il video Di Lego Harry Potter Alle 2 Sul canale Ciao Anzi Fatto il misgatto Mamao Grazie a tutti